a tutti amiche amici e bentornati nel canale di mamma formica e cigiolino oggi nicolò farà un video boxing e poi vi farà vedere un nostro nuovo amico che è arrivato qualche giorno fa lui ci ha fatto l'unboxing vi ha fatto vedere qualche cosa era smontato noi adesso l'abbiamo montato buona visione ciao a tutti e grazie per me da mamma formica e gigiolino e qua stiamo spacchettando un bago che ci è arrivato adesso l'abbiamo acquistato in edicola e ci è arrivato adesso dopo un mese dalla sua uscita che cosa c'è all'interno del pacco la seconda uscita la prima uscita ora li facciamo li fai vedere e la terza uscita ho dato un colpo alla telecamere ed è volata vieni qua porta lì qua vicino facciamo vedere porta lì qua e la prima uscita c'è il teschio e costa un euro apri lo tieni vediamo cosa c'è dentro il teschio esci le altre cose che ci sono all'interno il corpo umano cioè il fascicolo no questo non è il fascicolo il piano dell'opera il fascicolo numero uno e la guida al montaggio all'interno spiega dove qua all'interno spiega come il corpo dal corpo alla cellula una struttura solida l'ossatura del corpo all'interno di un osso come è fatto i punti cardine del corpo quanto è dura un osso quanto dura lo scheletro eccetera che dici nicola ti piace vieni qua usciamo il teschio vediamo se lo riesci a montare ma tu vuoi sapere lo sai che possiamo metterci anche i nostri vestiti se lo romano lo completiamo penso perché facciamo solo queste prime uscite che costano poco le altre uscite poi costano tanto non mi ricordo quanto costano ma tanto costano c'è una grande squadra 11 elementari e una squadra va bene saluta e dopo vediamo una volta che costruiamo almeno questa parte che abbiamo vediamo ciao ciao ragazzi mettete un like ci vediamo tra poco allora Nicola dopo che hai aperto tutti i fascicoli qua del corpo umano già la scatolina è vuota che è una collezione davvero carina e divertente noi faremo penso soltanto i primi fascicoli perché poi diventa troppo caro come prezzo ogni fascicolo c'è scheletrino che noi l'abbiamo chiamato gennarino ecco qui il nostro gennarino che vi accompagna che vi accompagna in un viaggio didattico che accompagna in un viaggio didattico i bambini ogni uscita ci sono dei pezzi qua c'è l'occhio il cranio e il cervello una parte del cervello poi abbiamo trovato il teschio appunto con i denti e la colonna vertebrale che sono i primi tre fascicoli qua c'è l'occhio abbiamo fatto l'abbonamento ora lo paghiamo e vediamo se c'è l'occhio se continuarlo oppure no i fascicoli sono fatti molto bene ve ne faccio vedere uno a casa ci spiega quali sono gli arti aspetta fammi vedere il corpo come è fatto quante ossa ci sono all'interno di un corpo cioè spiega le varie una grande squadra undici elementi una squadra cioè spiega veramente bene come funziona il corpo umano noi ancora non sappiamo se ci fermiamo i primi tre fascicoli ma voi potete sapere che che siete nati come bambini dalle scimmie deriviamo dalle scimmie il libro ci spiega che deriviamo dalle scimmie è il primo uomo ad essere ad essere un uomo lo sapete che è l'uomo sapiens giusto allora vi stavo dicendo mi ha interrotto quindi mi sono un po' persa vi stavo dicendo che non sappiamo se continuiamo e facciamo qualche altro fascicolo oppure ci fermiamo i primi tre perchè perchè la prima uscita costò 1 euro la seconda 3,99 ma poi 7 euro uscita per circa 50 uscite comincia ad essere una spesa non indifferente però se avete la possibilità io vi consiglio di farlo alla fine lo scheratro sarà alto 1 metro e 10 guarda c'è scritto ora qua cioè alla fine dovrebbe venire fuori così noi penso che ci fermiamo alla destra alla destra e perchè? perchè costa troppo comunque spero che siamo stati risaustivi speriamo che questo video vi sia piaciuto vi mandiamo un bacio con il cor e Gennarino pure mamma formiga Nicolò e Gennarino vi mandano un bacio se il video vi è piaciuto mettete mi piace iscrivetevi commentate se è possibile perchè se il video è per i bambini non si può commentare e attivate la campanellina da mamma formiga Gigiolino è tutto un bacio alla prossima ciao ciao ciao